Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con le daily news di Mr. Gadget, l'appuntamento che poi ogni sera è anche alle 20 su Radio Number One ogni giorno su Mr. Gadget.net Tantissime le notizie oggi, Facebook Messenger arriva su Windows Phone 8, potete scaricarlo in questo momento, tra l'altro se volete scaricare qualcosa anche di particolarmente bizzarro su Windows Phone vi segnalo anche un'applicazione che si chiama Animal Face, potete farvi una selfie e poi sostituire la vostra testa con quella di un animale insomma se avete bizzarrie di questo genere l'applicazione è già disponibile notizia che riguarda il mondo di Samsung che smetterà di alterare i benchmark che vengono fatti con le applicazioni come AnTuTu sapete che con gli ultimi modelli arrivavano dei risultati un po' strani, eccessivamente elevati ecco, Samsung smetterà di fare dei tricks per alterare i risultati dei benchmark ci siamo accorti comunque che non erano attendibili buona notizia invece per coloro che erano attratti o sono attratti da LG G Pad 8.3 dal 6 di marzo arriverà almeno negli Stati Uniti il modello LTE e speriamo che la distribuzione anche in Europa sia la più veloce possibile a proposito di LG, arriva oggi LG G Flex per cui comincerò un test intensivo, lo so sono l'ultimo della fila ma a volte capita e poi insomma in questi giorni arrivano tantissimi prodotti per cui riattiveremo in modo serio e sostanzioso i confronti e le recensioni di Mr. Gadget novità importante anche per Oppo che ha confermato che il nuovo prodotto arriverà in ben due modelli uno con il Full HD, l'altro con il QHD a proposito di novità in arrivo da Oriente confermato all'arrivo in Europa di Meizu che farà un evento nei primi giorni di marzo quindi tra pochissimi giorni per lanciare la sua linea di prodotti anche da noi questo davvero è una notizia importante perché Meizu ha veramente dei prodotti molto 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 interessanti a dei prezzi oltremodo competitivi nel mondo invece dei rapporti tra i grandi gruppi che lavorano sul mondo del web è curiosa la scelta di Yahoo che ha annunciato che non si potrà più accedere ai suoi servizi utilizzando il signing quindi diciamo l'accesso con le credenziali di Facebook o di Google Plus ovviamente si stanno affilando le armi e soprattutto si sta evitando di far conoscere ai propri competitors le abitudini dei propri utenti altra notizia importante che riguarda Samsung il Galaxy S4 viene finalmente ufficialmente aggiornato a Android 4.4.2 per il momento solo per i clienti Vodafone bisogna rilevare che Vodafone è effettivamente la più veloce di tutti acquistando un telefono bisogna tener conto del fatto che molto probabilmente gli aggiornamenti arriveranno sempre e comunque prima con i prodotti di casa Vodafone questo per chi è praticamente appassionato e vuole avere i telefoni proprio con l'ultimo aggiornamento questo è un dato di cui tenere conto da ieri poi BlackBerry 10 ha finalmente l'applicazione di OneDrive questo ovviamente permette di utilizzare alcuni dei servizi Microsoft che magari utilizzate sul vostro computer anche sul vostro BlackBerry diciamo che per oggi per la sintesi delle notizie, quelle principali, ce ne sono sempre a migliaia io cerco di farvi una selezione delle più importanti abbiamo detto tutto, ci ritroviamo se volete su mrgadget.net ciao ciao